Cristian Merli ha vinto il titolo CEM, il campionato europeo montagna 2022 in Slovenia a Bistrica, penultimo round della stagione FIA HHC, European Hill Championship. Il successo del pilota trentino arriva dopo 8 vittorie su 8 gare, guidando la sua osella PA30 di gruppo D-E2SS e col titolo di quest'anno porta a 4 il numero di campionati europei vinti nella sua carriera, dopo quelli legati alle stagioni 2018, 2019 e 2021. I contendenti più vicini a Merli sono stati il pilota cieco Trunca e il tedesco In. Il percorso di Bistrica è uno dei più corti della stagione, misurando poco più di 5 chilometri e sale dai 425 metri sul livello del mare allo start fino ai 580 dell'arrivo. Una gara breve da fare quasi in assenza di respiro, con 14 curve e con il record posto sotto i due minuti, esattamente un primo 59,6 secondi. Ma sentiamo le parole del neo campione europeo della velocità montagna 2022. Anche quest'anno siamo quasi arrivati alla fine della stagione e sono molto soddisfatto perché siamo riusciti a vincere nuovamente il campionato europeo. È il quarto titolo e per me è stato il coronamento di tanti anni di sacrifici perché fino a qualche anno fa pensavo fosse impossibile. Riuscivo sempre a sfiorare il titolo ma non riuscivo a giudicarlo. È stata una bella stagione, abbiamo fatto 8 gare e abbiamo vinto 8 le gare facendo anche 3 record, quindi meglio di così non potevo andare. Ovviamente è un lavoro di squadra e devo ringraziare tutte le aziende che mi hanno supportato economicamente ed anche quelle tecniche come Osella, AMO, LRM e tante altre piccole realtà che ci aiutano a preparare al meglio la nostra vettura. E' più un sacco di amici che vengono ad aiutarci in officina e sui campi gara, quindi una dedica particolare a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. E' più un sacco di amici che vengono ad aiutarci in officina e sui campi gara. E' più un sacco di amici. 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 E' più un sacco di amici.